E si svolgerà dal 15 al 19 di marzo la Bologna Fiera, l'edizione del 2018 di Cosmo Prof, la fiera appunto di riferimento internazionale del settore della cosmese, è stata presentata questa mattina a Milano, è andata per noi Maria Cristina Ruini, vediamo. 2.776 espositori provenienti da 70 paesi, fra cui Cina e Taiwan, più 3% rispetto al 2017, 27 le collettive nazionali. È stata presentata questa mattina al Teatro Gerolamo di Milano, l'edizione 2018 di Cosmo Prof, la manifestazione di riferimento a livello internazionale per il mondo della Cosmesi, che si terrà a Bologna Fiera dal 15 al 19 marzo prossimi. A firmare la campagna pubblicitaria ancora una volta, Oliviero Toscani. Qualche settimana apriremo, diciamo così, il quartiere a questa bella manifestazione, come diceva lei, una manifestazione importantissima perché è un tratto internazionale spiccatissimo, un successo ormai che si ripeta nel tempo, per noi è un po' una delle nostre ammiraglie, delle manifestazioni più pregiate, di cui teniamo particolarmente. È l'occasione anche per consolidare ovviamente la manifestazione bolognese, ma è anche per radicare ulteriormente il network che sta dietro al brand Cosmo Prof. Oggi noi siamo presenti a New York, siamo presenti a Hong Kong, ma saremo presenti anche in India, nelle Filippine, in Vietnam, in Thailand, insomma stiamo davvero radicando Cosmo Prof on poi tutto il pianeta con iniziative che hanno dimensioni e caratteristiche diverse, però dove sostanzialmente ci caratterizziamo per essere leader del settore. Un comparto fieristico che sarà oggetto di un importante respiro di Thailand, 140 mila metri quadrati di superficie coperta e lavori quando termineranno e come diventerà Bologna Fiere? Allora io dico diventerà più internazionale, più grande, perché ovviamente questo significa anche aumentare come diceva lei gli spazi espositivi, è sicuramente più nuova e quindi più moderna, più adeguata ai giorni nostri, per cui oltre al rifacimento diciamo così delle strutture, dei padiglioni, stiamo lavorando anche per dotarli di quei servizi innovativi che ovviamente rendono ancora più appetibile il nostro quartiere. Il rapporto con l'Accademia del Profumo è cresciuto in questi anni e quest'anno si evidenzia in maniera plastica attraverso il centro servizi che è interamente dedicato alle grandi eccellenze della profumeria internazionale. Siamo contentissimi di questo grande rientro in grande stile dell'Accademia del Profumo.